Sarebbero dei ragazzi molto giovani gli artefici degli atti vandalici nel cimitero di Gorgo a Monticano. I carabinieri stanno indagando a 360 gradi. Nulla, hanno detto gli investigatori, sarà tralasciato. Intanto in queste ore verranno ascoltati i cittadini che nella fascia oraria incriminato, ovvero dalle 14 alle 15 e 30, hanno visto delle persone allontanarsi in bicicletta. Questo pomeriggio il sindaco si è recato dai carabinieri per presentare una formale denuncia contro i gnoti, mentre questa mattina ha aperto il sinistro per l'assicurazione. Intanto il marmista ha effettuato un sopralluogo. Domani arriverà un prodotto nuovo che si spera possa cancellare le scritte. L'appello ai cittadini è quello di non utilizzare sostanze portate da casa ma attendere perché il rischio è di peggiorare la situazione. A chi chiede se sarebbe opportuno mettere delle telecamere nei pressi del cimitero, il sindaco risponde così. Guardi, le telecamere secondo me sono inutili perché se noi le mettiamo agli ingressi non possiamo accusare nessuno di quello che è stato commesso e di quello che comunque hanno commesso. All'interno, invece spiega il sindaco, è davvero il caso di arrivare a mettere delle telecamere in un luogo sacro dove riposano i nostri cari? È sconcertato e indignato il primo cittadino che avverte quando saranno presi i banderi verranno puniti. Ieri al cimitero c'è stato un viavai di persone che andavano a controllare la tomba del proprio caro. La rabbia dei cittadini davanti ad un tale scempio è stata tanta. Chi è entrato nel cimitero con un pennarello indelebile e lo ha fatto solo per radicare un danno, per profanare una tomba, per causare dolore alle persone. C'è massima collaborazione dei cittadini e i carabinieri che stanno svolgendo le indagini. Tutti chiedono una sola cosa, di trovarli e di punirli perché, ci ha detto un anziano, serva da lezione.